musica 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 vediamo le missioni perchè ce ne stanno più di una allora 3 missioni event musica 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 click musica 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 archipetti a Allora quanto dista? Non lo vedo Un chilometro e due Ah ok Elicottero o trasporto rapido? Sii dai elicottero ce l'abbiamo qua davanti Perfetto Vai due due Ok Vai Ok 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 Voi Si è importante che siamo arrivati a arrivare Ucchel Lision, Queen Nomad, passo Il prossimo acquirente di Robina Ambrata è un vero mistero Abbiamo la posizione del carico di gas Ti invio le coordinate per indagare Identifica l'acquirente e piazza un tracciatore sul carico Possiamo neutralizzarlo appena partirà, stroncando così l'organizzazione Se ti scoprono, l'affare potrebbe saltare e non sarà possibile risalire alla fonte Ricevuto, passo e chiudo Ok Trova l'acquirente senza farti scoprire Nella provincia a muotare Ok Nord-Ovest 930 metri Ok Beh, avrebbe fatto comodo l'elicottero Sto giusto Ah vabbè, scialla, si può fare pure senza ricordi Fottili in vista Dove? Si vedi? Ok, controllo Va bene, li vuoi ingaggiare? Ma si, leviamoli di mezzo Va bene Ok, io faccio una buona posizione Come preferisci, scegliti quelli che vuoi C'è un'area piena di cassa È enorme Allora, io mi prendo alfa e bravo Ok Roger, gli altri due sono miei Perfetto Quanto vuoi? Perfetto, che questo li sta muovendo, bro Ah, ok, ti ha fermato Viziai Quanto vuoi? Ok Ah, forca Volito Perfetto Maschera Eh, rieccoci nella nube tossica Quanto vuoi? Beh, dai Ma ci piace Aoi Ulla Ulla Ok 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 Trovo l'acquirente senza farti scoprire Va bene Ok Io mi fermo Vado su col drone Vai anche tu Così ti fai una panoramica Deve essere l'acquirente Ok Vediamo se riesco a scoprire qualcosa Qui è l'acquirente del gas Sta a farti scoprire Ti muovo? Eh, no Vai col drone Vaci vicino Ok Non troppo Mi raccomando Io spezzino un attimo la zona Ok Il drone ha avviato Ok, lo vedo Che cazzo di te spai quel posto qua? Oh Ce l'ho a 70 metri Il drone 74 88 Non mi può vedere Quanto c'è il sapere Tu riporta Gas controllato e pagato I miei uomini si occuperanno del trasporto Lascio Auroa per conto mio Non c'è bisogno che la sentinello sappia So che cosa possiede l'MI-6 I miei ex colleghi non hanno niente di paragonabile a questo gas terribile Legion, Queen Nomad L'acquirente Porter Forse un ex dell'MI-6 Porter Cambio di piani Porter è un bersaglio importante Un terrorista europeo Serve comunque un tracciatore sul carico per seguirlo Il tuo nuovo obiettivo è catturare Porter vivo Non farti vedere I venditori non devono informare l'organizzazione di Porter Lo consegnerò agli esclusi Voleva lasciare l'isola da solo Nessuno si accorgerà di niente La Rainbow potrà recuperarlo in seguito Chiudo Perfetto Perfetto Obiettivo completato Piazza I segnatori E i montelli Senza partito Ok Vieni Sam Andiamo Ti seguo Quanto stai? No l'ho cambiato poco fa Sto a 91% Non lo giro Guarda per sicurezza lo ricambio Di nuovo Va bene Yes Vai Vai Perfetto Fatto Ci sono Guarda sulla sinistra Con me C'è un tango Mi tango I mini Ok No Ok Ok, vai, scavalca pure da qua, ti copro. Scavalco. Cambio filtro. Ok, avanziamo sul destra. Entriamo dalla porta. Ok, occhio. Mettimi dietro di me. Sì, sì, ci sto. Ok, occhio ad alfa, eh. Potrebbe vederci. Roger. Occhio a due tango che stanno arrivando. Tre. Attendi. Ce ne abbiamo uno dietro qua ai... panettoni bianchi. Pronto ad avanzare. Quando vuoi. 5, 4, 3, 2, 1, avanza. Ok, gli sono, non ho dentro. Dentro. Dentro di te. Vai, 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 sono sulla tua destra. Sì, ti ho visto, ti ho visto. Ok, abbiamo il primo container qua davanti, Sam. Sì, ti ho visto, ti ho visto. Aspettiamo alfa che torni indietro. Sì, non è percorrere qua. Non succede niente. Facciamo questi turni giorno dopo giorno e non succede mai niente. L'operatore radio mi ha detto che all'altro lato del disolo è un po' di persone. Non mi pagano abbastanza per questo. Ok, vami al container, Sam. L'altro, ho questo. Questo, questo. Vado? Veloce, vai. Ok, ma grazie. Pobre che... Dimmi che ci sei. Fatto. Ok, torna indietro. Ecco. Ok. Tocca all'altro. Sì. Ok. No. Tu qua? Vado lì? Sì. C'è un artigliere in mezzo, più altri tango. Vigili. Questo mi sembra... Roger. C'è anche... Civile Sconosciutto, possibile VIP. Cioè, il terrorista porter che dobbiamo configurare vivo. Merda. Pronto? Dimmi quando. Vai. Va, che razza. Vai. Ci vuole ancora un secondo, cazzo. No, per capitana. No, no, no. Oh, se è fermato. Tu lo ho fatto. Ma... Vai, vai, vai. Torna indietro. Ok, manca il terzo. Sì. Ok, ritorniamo da dove siamo venuti e riprendiamo il filtro. Sì, io ce l'ho al 40%. Ok, lo porto di destra. Sì, sì. Ok, quando usciamo. Sì, sì. Vai, vai verso il filtro. Sì, ma non ho visto volta. Vado? Solo a sinistra. Vai, 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 vai. Sto andando. Sono indietro. Ok. Cambio. Perfetto, vai. Chiudo. Ok, per pronto. Andiamo. Ok. Ok. Plena di tango, eh. Secondo. Vedi le scale sul dietro di te, queste? Quali? Punto alfa. Sì, lo vedo. Ok. Segui quello che faccio io. Ok, vieni. Non ci posso. Non ci posso. Non ci posso. E andiamo di volo. Ok. Ok. No. No. tasto civile ferma negativo fuori della porta sulla destra c'è un tenente ok marcato isolato se vuoi puoi abbattolo alfa se vuoi puoi abbattolo isolato ok liberi tango sulla destra verso est alf è bravo vieni fuori pronto rapido eh tu sei bravo ok dimmi quanto vai ottimo con me occhio d'alfa ok vai al container ok gober vai 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 guarda col drone torno indietro questo è il suo percorso di primo merda dobbiamo catturarlo senza farci scoprire sarà una bella impresa in mezzo a tutta quella gente vai vai cambiati il filtro e come cazzo facciamo qui lì fermo in mezzo al panico va 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 calurato però stil è va 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 Questa è una bella domanda Accendi Attento all'artiglieria, stanno venendo le tango Ok, facciate lo dite Ok Vai, non alza Ma non è fattibile prenderlo O forse si Tu di qua Roger, fammi vedere una panoramica di quanti sono Ah, sono troppi, cazzo Uno, due, tre Quattro Se attiriamo lui, ne attiriamo cento Ah, hai ragione Ok, sei pronto a catturarlo quando te lo dico, eh? Aspetta però, prima di procedere, tra che parte devo andare? Dalla parte destra del fontello Esatto Ah, vicino a lui c'è un tango Stai eliminando coltone da colpo sincronizzato? Confermo Pronto? C'era un altro, però 54 metri Ah, Sam, dimmi quando sei Ah, merda Ah, merda Ora, ora di notare Vado, quando, mi fido di te, quando è il momento improvviso, dimmelo che lo vado a catturare L'ho visti pochi così Sono veramente super efficienti Hai calcolato l'artigliere Ma proverei a dormire se non avessi paura di morire di preso Grazie Pronto? Dimmi quando Vai Vieni in vitro Ritorna alla posizione del filtro iniziale Quanto hai di filtro? No, sciallo 60% Vai avanti Cammina dritto Ok Poi da qua la tagli E' così che pensavi che sarebbe andata la vita? Lascia stare Non devi rispondere Sono felice di poter fare qualcosa Invece che marcire a Erja Ok, popolo di esclusi, vai Lesion Queen Nomad Ho consegnato Porter agli esclusi e il segnalatore è sul carico La Rainbow recupererà Porter Missione compiuta Ho ricevuto Ho ricevuto Ho ricevuto Passo e chiudo Perfetto Perfetto Da contadino a paladino della libertà Un bel cambio eh? Erwan cominciava a fuzzare come uno spogliatoio Sono felice di uscire e fare qualcosa No 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 Ok, faccio bene Mi serve tutto non lo fa Ok Secondo te staremo bene Perfetto 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 Perfetto